Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi andiamo ad eseguire la manutenzione del cambio automatico su una Golf GTI 245 CV Performance. Manutenzione che va eseguita ogni 60.000 km. La nostra procedura qual è? Sostituzione dell'olio del cambio automatico, lavaggio del cambio automatico con questa specifica attrezzatura, si va a inserire un additivo di lavaggio e un additivo di mantenimento. Quindi prima si inserisce l'additivo di lavaggio con l'olio vecchio, si fa la procedura di lavaggio con questa macchina, poi si va sempre in questa macchina ad estrarre l'olio sporco e tutto il lavaggio del cambio sporco, si va a sostituire il filtro, questo qua è il filtro vecchio, vedete, questo qua è il filtro vecchio che nonostante la macchina abbia solo 58.000 km è già da sostituire e andiamo ad inserire un filtro olio ovviamente, come vedete, originale, ok? Con i lubrificanti appropriati, quindi originali della casa madre, si va a sostituire l'olio del cambio ogni 60.000 km. Questa manutenzione la facciamo qui alla Bianco Auto, questo è un Golf 7 GT245 con il cambio a 7 marce, la eseguiamo su tutti i tipi di veicoli, quindi che sia un Golf, che sia un Mercedes, classe A o classe B o classe C o E, tutta la gamma, che sia un BMW, che sia un Jeep, che sia un Range Rover, noi facciamo questo tipo di manutenzione su tutti i tipi di cambio automatici, abbiamo sia l'attrezzatura diagnostica, che quella meccanica per andare a sostituire l'olio, per ogni tipo di veicolo, se avete bisogno di un preventivo, vi potete chiamare al numero 0141 96 92 14, vi mandate un messaggio Whatsapp al 345 060 86 80, anche solo con il numero di targa e la richiesta del preventivo, e io vi invierò il preventivo, o eventualmente per email a info-biancoauto.it. si fa il numero di targa, perché io con la targa riesco a sapere che tipo di filtro installa la vettura e la quantità dell'olio, e in quel modo riesco a fare un preventivo esatto. Vi aspettiamo, ciao a tutti e alla prossima!